Sì, stavamo partiti un po' lenti, poi l'1-0 abbiamo ricominciato a giocare subito e nel momento che stavamo iniziando a far bene abbiamo preso il 2-0 che ci ha un po' tagliato le gambe però siamo subito ripartiti e abbiamo provato subito a riaprirla, peccato che non è stato così. Certo, ma lo sapevamo anche noi, in Serie B tutte le partite sono difficili sia che becchi la prima che l'ultima della classifica infatti ogni partita dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo, fare del nostro meglio e portare a casa i tre punti. Loro sono partiti molto forti, erano molto bravi sulle seconde palle e anche un po' il campo sai quando giochi in casa con questi campi così piccoli loro hanno questa forza e invece venivano a prendere alti e sono stati bravi a partire forte noi siamo partiti un po' non come sempre però poi ci siamo ripresi e i due gol ci hanno un po' tagliato le gambe. Sì, c'è tanta amerezza, come è giusto che sia, però ognuno di noi è convinto che se facciamo il massimo possiamo raggiungere tutti insieme il nostro obiettivo, sappiamo la nostra forza e lavoriamo tutti i giorni per raggiungere ciò. Certo, l'abbiamo visto anche oggi che bisogna dare sempre il massimo perché non sono i punti che contano ogni squadra fa del suo meglio e anche noi dobbiamo farci ciò e quindi ci prepariamo al meglio in questa settimana che non si gioca, lavoriamo al massimo e cerchiamo di arrivare al meglio per la partita con il Parma. Certo, il pubblico deve aiutarci, sappiamo che io soprattutto lo so e anche così lo so che può darci una mano grandissima e speriamo che aspettiamo le nuove regole e vediamo il da farsi, però io sono convinto che se loro ci aiuteranno noi andiamo al doppio, sarà una grande partita e noi abbiamo bisogno di loro. Grazie a tutti.